...all'eterme di Caracalla in Roma e per tutti coloro che sono collegati su Sport Italia è arrivato il momento che i guerrieri entrino nell'arena fa il suo ingresso sul ring all'angolo blu lo stilante al titolo italiano della categoria pesi medio-massimi da Montesilvano Lorenzo Di Giacomo Lorenzo Di Giacomo fa il suo ingresso sul ring all'angolo rosso il campione italiano in carica della categoria pesi medio-massimi da Roma del Predator Mirko Ricci Giacomo 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 Ricci Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È la quarta ripresa. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 È l'ottava ripresa. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.